Perché alle mie spalle ho questo slogan, questa scritta, questa richiesta adotta un disobbediente? Adotta un disobbediente è quello che viene richiesto da parte di quei ragazzi facente parte dell'associazione Ultima Generazione, se ne sente parlare tantissimo in questi giorni, sono i cosiddetti definiti eco-vandali, quelli che vanno nei musei con le zuppe di Pisele e imbrattare i quadri di Van Gogh, quelli che hanno imbrattato la facciata di Palazzo Madama, quelli che bloccano il grande raccordo all'unare le strade in nome di Salviamo il pianeta. E loro cosa chiedono? Chiedono di essere adottati, in che senso? Vuol dire che noi dovremmo a distanza, avete presente come funzionano le adozioni a distanza, noi paghiamo, quindi noi dobbiamo pagare un disobbediente come si definiscono, per far sì che ci blocchino le strade e non si vada a lavorare, questo è il paradosso. Loro vogliono essere sovvenzionati da noi perché se andate sulla loro pagina e guardate proprio cosa c'è scritto sotto questa richiesta, dite insomma per noi non è una cosa semplice dover andare a fermare le autostrade, ad imbrattare i muri, fare queste battaglie, abbiamo bisogno di essere economicamente sostenuti. Ora io fin da subito mi sono sempre messa tra virgolette diciamo così di traverso rispetto a questi movimenti perché io credo che queste siano persone che vogliono fare rivoluzionari ma non sanno nemmeno cosa voglia dire esserlo, persone che utilizzano una vernice lavabile per non andare in galera o comunque per non pagare un danno, quindi classiche persone che tirano, lanciano il sasso e tirano indietro la mano. Ora io ritengo che l'ambientalismo sia un tema serio, serissimo. Ecco e delegare questi ragazzi con questi gesti a diffondere un tema così importante, beh io credo che lo svilisca, che renda tutto questo una carnevalata, una pagliacciata. Per tutti quelli che invece sostengono che questi gesti, questi atti che sono ricordiamolo atti vandalici servono per tenere alta l'attenzione su un tema così importante, io credo invece che si ottenga l'effetto contrario perché nell'immaginario collettivo delle persone e lo ha detto proprio anche un sondaggio che è stato fatto, questi gesti non fanno altro che irritare le persone, pensate solo a chi si trova per strada, deve andare a lavorare e viene bloccato, quindi non sollevano, non servono minimamente alla causa ma fanno solo ed esclusivamente più danno.